Sì, grazie Presidente. Allora rispondo molto volentieri, spiego molto volentieri la razio di questo emendamento. Ci è sembrato un po' discriminante inserire all'interno di un regolamento una nota di questo tipo che è molto prescrittiva, quindi l'abbiamo voluta pur rimanendo ovviamente per ovvi motivi la necessità di presentare il cartaceo, non abbiamo voluto sottolinearlo proprio perché poteva apparire discriminante. Quindi il richiamo all'articolo, così come è stato emendato, non toglie la possibilità, anzi è un obbligo per il disabile dover presentare la domanda in cartaceo, però ribadire all'interno del regolamento questo ci è sembrato appunto discriminante. Fermo restando che stiamo anche predisponendo, lavorando con una piattaforma adeguata, la possibilità di presentare già online questa documentazione. Quindi è stata solo dettata da una sensibilità, se la vogliamo chiamare in questo modo. Però non si esclude come ovvio che sia che il disabile debba presentare il cartaceo, perché è corredata la domanda di tutta una serie di documentazione che online diventa complesso oggi produrre. Grazie.